Maxi servizi, maxi scelta e tanta convenienza, competenze e affidabilità sono le caratteristiche del Maxi Store Deco inaugurato stamane a Montemiletto. Gastronomia, macelleria, pescheria, alimentari, congelati, frutta, verdura, salumi e formaggi ed ancora vini e liquori. Al Maxi Store Deco di Montemiletto c'è davvero di tutto per la spesa, come spiegato dal direttore vendita Multice di Multinvest, Antonio Pirozzi. Dottor Pirozzi stamane il taglio del nastro del Maxi Store Deco a Montemiletto, una struttura immensa dove possiamo davvero trovare di tutto. Sì, una struttura immensa a 1200 metri quadrati a disposizione dei nostri clienti dove ovviamente l'offerta commerciale è piena e completa. Io giusto per dovere di cronaca ricordo a tutti che noi eravamo di fronte, noi in un negozio molto più piccolo, con un'offerta commerciale ovviamente ridotta, adattata al contesto, adattata alla metratura a disposizione. Io credo onestamente che qui ci siamo superati e lo posso dire perché è la verità, per cui abbiamo ampliato notevolmente il reparto ortofrutta. Abbiamo inserito il reparto panetteria con panificazioni in loco che noi avevamo, con una cucina in loco, con un bar e con una pasticceria in loco. Abbiamo ampliato l'offerta merceologica sul mondo dei formaggi, sul mondo dei salumi, sul mondo delle carni e abbiamo inserito anche il reparto pescheria che di fatto credo possa diventare, per le condizioni che abbiamo strutturato, un fiore all'occhiello del negozio. E abbiamo poi conseguentemente una cantina con tutte le marche locali possibili e immaginabili e il mondo del congelato sfuso, che non c'era prima, perché riteniamo possa essere qui un reparto di grande servizio, con tutti i congelati anche confezionati. Quindi un'offerta importante anche nel mondo dello stagionale. Io credo che un cliente che entri in questo negozio possa effettivamente avere il piacere di prendersi un buon caffè seduto. Può fare la spesa, può lasciare i bambini, può andare in giro vedendo tutte le cose belle che abbiamo fatto. Credo che sia un'eccellenza per il territorio, insomma, un locale di queste dimensioni e di queste proporzioni. Tante offerte per essere sempre a fianco del consumatore, ma anche tante iniziative nel corso dell'attività. Assolutamente sì, perché noi ovviamente cerchiamo di andare un po' incontro a tutte le esigenze del cliente. E quindi, come dico tutte, dico ecco, il mondo degli anziani con uno sconto dedicato. Abbiamo attività promozionali molto importanti, ma chi sa, conosce le cose, sa perfettamente insomma com'è e lavora. Non disdegniamo ovviamente tutta la parte della sostenibilità, cercando in qualche modo di andare incontro anche a questo tipo di esigenze. Abbiamo una macchina all'esterno che raccoglie la plastica. Insomma, cerchiamo di avere un presidio un po' su tutto, perché oggi è evidente che vicino a un servizio, sulla parte relativa al commerciale, devi assolutamente aggiungere anche tutta una parte di servizi e cliente oggi si aspetta. E noi stiamo cercando di arrivare anche un po' in anticipo rispetto ai tempi. E un'altra caratteristica, direttore, è avere personale professionale qualificato, ma anche gentile. Assolutamente sì. Anche questo è un grande fiore all'occhiello, perché chi conosce questo negozio, e molti lo conoscono, beh, mi hanno sempre detto, ed è vero perché l'ho provato, ho testato sulle mie mani, con le mie mani che molti clienti sceglievano il negozio precedente per i nostri ovviamente collaboratori, che sono tutti quanti qua, con gentilezza, con la cortesia. Stamattina, guardi, racconto questa cosa velocemente. Quando abbiamo fatto l'inaugurazione, la cosa che mi ha sorpreso e che mi ha ovviamente entusiasmato è che tutti i clienti salutavano i dipendenti dei negozi, come se fosse gli amici che rivedevano dopo qualche giorno. Che bella cosa, insomma. E quindi questo vuol dire che questo legame che si crea poi sul territorio, è un legame che non può svanire con un'attività promozionale, perché è un mix che raccoglie un po' tutto. Io sono entusiasta dei nostri collaboratori e molto fiero di rappresentarli. Grazie.